chi non muore si rivede il problema è che piano piano siamo in due infatti non a caso dico chi non muore si rivede tocchiamo ferro buonasera zio stasera siamo in due perché il povero Daniele più di là che di qua non diciamo così se no poi la gente ci crede no non sta tanto bene quindi non è potuto esserci ma tutto a posto ecco penso si spera ha avuto un paio di giorni di ospedale poi insomma racconterà lui racconterà lui quando tornerà se tornerà a volte la luce si spinge però come si suol dire the show must go on scherzo Daniele ti mando un abbraccio e un bacio ti vogliamo bene Dani va beh comunque bando di chance chance non ce ne frega un cazzo scherzo scherzo però visto che siamo in due questa sera io e lo zio ne volevamo approfittare per fare un non un remake ma una parte seconda di un bel video che avevamo fatto cazzo è passato un anno eh sì un video che avevamo fatto l'anno scorso proprio all'ultimo sangue dove portavamo i nostri alcuni dei nostri brand preferiti dove io portai che ve lo dico a fare Creed e Iroja mentre te si hai portato Mal e Profumun Roma e Profumun Roma è vero sì 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 mi ero dimenticato stasera quindi parte seconda dove portiamo eh altri due dei nostri brand preferiti non so se vuoi già spoilerare i due brand o se vuoi tenere un po' chiariamo che i brand preferiti almeno nel mio caso sono diversi quindi eh perché dopo quella puntata no perché dopo quella puntata eh molti mi associano a Frederic Mal quando è uno dei miei brand preferiti e ce ne sono tanti uno di questi è Creed che volevo portare stasera ma sarebbe stata un po' una copia del di quello che ha fatto Simone l'anno scorso anche se qualcosa di diverso abbiamo però giustamente lui mi dice ma sei sempre a criticarli come fai a portarli nei tuoi brand preferiti ma perché l'amore che io ho verso Creed è un po' come quando sei innamorato della donna sbagliata capito cioè tu provi sentimento però poi lei non contraccambia ecco questo è il rapporto che ho con Creed con questo chiudo io ti spoilero già quali saranno i due brand che porto stasera il primo è Tom Ford e il secondo è Ex Nilo Tom Ford che critico spesso ma non per la qualità dei profumi ma per il prezzo che hanno però poi devo anche ammettere che è un brand che mi affascina è un brand che ci spenderei tanti soldi perché ci sono tantissime referenze che comunque quando le provo dico cavoli questo qui mi piacerebbe avere cavoli questo qui e ti dico non trovo mai quello che i fuochi d'artificio però ne ho diversi stasera non li porto tutti semmai il video diventerebbe troppo lungo e li spendo perché ci riconosco quel tipo di profumeria che a me piace sono d'accordissimo mi trovi completamente d'accordo ottimo e tra l'altro sarà comunque un video lungo lo sai vero si anche perché siamo a 4 minuti dobbiamo ancora partire quindi da parte allora si vai 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 subito guarda tanto i primi tre di Tom Ford li passo molto velocemente partiamo subito con il Black Orchid il classicone il profumo nasce da donna che poi dopo viene scoperto dagli uomini e che forse piace più agli uomini che alle donne il profumo per me splendido potente arrogante presuntuoso direi però ne ho già parlato diverse volte quindi non mi sto a dilungare però a me profumo che piace buono buono beh intanto io non ho ancora detto cosa porto e non spoiler ovviamente il primo si verrà a sapere è Nishane e parto anch'io con un profumo che ormai conoscono tutti che è Hasivat poco da dire per me rimane comunque ancora un caposaldo del del marchio rimane ancora forse uno dei miei preferiti se non il mio preferito di Nishane e io non voglio aggiungere nient'altro e neanche tu grazie io sto zitto quando facciamo questo tipo di puntate io non giudico e non valuto i tuoi profumi io continuo con la saga Black Orchid questa è la versione parfum dovrebbe essere la versione parfum che però si discosta dalla versione classica con bottiglia nera perché è un pochino più terroso è un po' meno sfacciato ha delle performance sia un pochino superiori però si discosta un pochino quindi non è un Black Orchid semplicemente pompato perché comunque ha qualche sottile differenza non è che sia un marino questo però ha qualche differenza che non riesco mai a capire qual è dei due che mi piace di più alla fine l'ho preso tutti e due e ho tagliato la testa al toro e se qualcuno c'è stato qualcuno mi ha detto ma meglio la versione Gold o Black tutte e due apro un'altra parentesi non so se magari non ti stavo cagando prima mentre parlavi che abbiamo scelto altri due dei nostri brand preferiti ma abbiamo scelto all'interno dei nostri brand preferiti i sei preferiti perché va detto perché te ne hai una valangata di tutti hai scelto i tuoi sei preferiti idem io andiamo avanti come come non portare ovviamente Sultan Vetiver che a te piace tantissimo allora qui abbiamo un Vetiver a 377 gradi è un Vetiver caratterizzato da note molto aromatiche e ha una leggera sfaccettatura ambrata infatti è un Vetiver abbastanza caldo carico e mi piace veramente tanto non è tra i miei Vetiver preferiti in assoluto ma riconosco la qualità e la complessità di questo profumo quindi comunque mi piace lo apprezzo e te lo porto dovresti comprartelo sì abbiamo detto che non devo valutare non devo dire niente scusa scusa io finisco la saga della linea Orchid hai rotto il cazzo mi piace mi piace lo porto questo è Velvet Orchid che si discosta parecchio dagli altri due perché qui comunque abbiamo sì in apertura qualche nota di rum qualche nota agrumata però poi parte l'orchidea la rosa il gelsomino accompagnato da sandola e vaniglia profumo molto coccoloso molto morbido quell'avvolgente non asfissiante quell'avvolgente bello elegante sexy come profumo per me assolutamente unisex e forse ti dico che è l'ultimo che ho preso della linea e forse ti dico che ad oggi è quello non che mi piace di più ma che trovo un po' più indossabile un po' più usabile perché gli altri due effettivamente sono o sei una persona che se ne sbatte i testicoli perché poi bisogna stare attenti come parliamo perché la gente si aspetta che parliamo come si è educato quindi gli altri due sono un po' più sfacciati questo invece è più indossabile più tranquillo più più mettibile ok ok bene allora andiamo avanti ovviamente non stiamo facendo nessun tipo di classifica cioè un ordine puramente casuale dato che sapevo che tu avresti portato Tom Ford non c'entra niente ovviamente però Swed et Safran DNA unico no non è vero non è un DNA unico lui ricorda molto il Toscan Leather di Tom Ford forse gli manca quella parte un po' fruttatina se vogliamo che va ad addolcire appunto Toscan Leather io li ho tutti e due ti dirò apprezzo tantissimo Toscan Leather per tutto quello che ha portato al mondo della profumeria e nella fattispecie al mondo dei cuoiati cazzo però lui lui mi piace veramente forse mi piace di più lo dico oggi e qui lo dico e qui non posso negarlo perché ci stiamo riprendendo però anche lui comunque rimane un cuoiato molto molto morbido questa questa pelle scamosciata appunto con lo zafferano che gli danno un tocco un po' orientaleggiante performa veramente tanto proietta bene e ad oggi è uno dei miei cuoiati ancora oggi uno dei miei cuoiati preferiti io preferisco andare alla radice e porto Toscan Leather guarda un po' è una casualità sai che a me piace sempre andare verso le origini no? e beh diciamo che un po' l'hai descritto te con il tuo il la tua la tua cosa avevi detto prima? vabbè il suo cugino alla lontanissima alla lontanissima sì sì è cugino brutto eh il tuo no dai comunque parliamo un cuoiato un lampone questo profumo ha un grandissimo merito che ha portato questo lampone mescolato col cuoio che insomma era un abbinamento molto azzardato con questo zafferano pelle pelle scamosciata cuoio allora lo porto non è proprio nelle mie corde che tu sai che io cuoio pelle queste cose qui non è che ci vado matto anche se però qui con il lampone lo zafferano bello ammorbidito ben bilanciato ma lo porto perché lo ritengo proprio quei profumi che hanno aperto un percorso di tantissimi altri brand che sono andati un po' a mescolare il cuoio con della frutta o comunque con note che all'idea possono non sembrare abbinarsi così bene ecco lui l'ha fatto e quindi va portato con merito sono d'accordo pura verità io seguo il filone dei cuoiati fruttati con un tabacco che è fan your flames anche lui mi piace veramente veramente tanto allora io in questo profumo percepisco tantissimo la nota del cocco un pelino meno questa nota liquorosa di rum però gli dà una bella rotondità tabacco si sente si sente soprattutto nella sua evoluzione dove almeno sulla mia pelle la nota del cocco un pelino scema e rimane appunto questo tabacco un po' legnoso ma comunque con una bella nota dolce e io personalmente lo trovo molto sensuale anche se poi i profumi che io ritengo sensuali boh non è che è una cosa soggettiva sì però mi piace veramente veramente tanto secondo me è uno dei migliori appunto del brand buono buono io questo quasi quasi lo faccio descrivere a te perché vuoi mettere in difficoltà che cos'è si vede un cazzo è un attimo ora metto a fuoco un attimo ma ma com'è lento com'è lento ah tabacco vaniglia eh vabbè ma lo sai che è un mio pezzo di cuore vai tu vai tu io ce la faccio ma io il problema è che lo sai che lo descrivo male perché ho in testa la tua descrizione anche no no in testa la tua descrizione perché questo profumo gliel'ho comprato dopo aver visto un tuo vecchissimo video e l'avevo provato in aeroporto però sai quando sei in aeroporto provi tante cose quindi non gli avevo dato troppa importanza poi dopo ho sentito te e purtroppo cioè non purtroppo sono condizionato nella valutazione di questo profumo dalle tue parole perché è così perché comunque io mi ricordo l'hai descritto lo usi a Natale lo usavi a Natale queste cose e io ci rivedo tutto questo in questo profumo ora tale descrivere è un best seller un profumo storico perché è un profumo storico che anche lui ha aperto un po' la pista ai tabacchi vanigliati eccetera eccetera poi dopo mi sento ogni tanto un ronzio nell'orecchia ma l'hai provato quel tabacco e vaniglia ma baff fa un bagno sì l'ho provato ho provato l'originale ma stasera sei molto puntiglioso io mi sono dato come obiettivo di non che voglio trasmettere chissà cosa perché ognuno poi ragiona per se stesso i soldi sono ognuno spende i propri soldi e tutto quello che mi sta dando fastidio ultimamente è faccio un esempio non voglio fare nomi hai provato quel profumo nuovo bellissimo cos'è? tabacco e vaniglia lì i testicoli mi cascano e devo andare in giro a raccoglierli perché poi gli dici ma l'hai mai provato tabacco vaniglia di Tom Ford? no ma perché ne parlano tutti lì i testicoli mi ricascano e vanno in giro per la stanza questa cosa non mi piace io l'ho detto un sacco di volte mi piace andare a scoprire anche le novità per l'amor del cielo non è che sono chiuso nel vecchio nel vintage però mi piace soprattutto andare a scoprire chi ha aperto determinate strade è inutile che vada a provare qualcosa di con legno di cedro lana sagramato prima vada a sentire Aventus poi tutto il resto semmai ma lo dico per esperienza personale all'inizio ho preso delle cose pensando che erano delle bombe atomiche come qualità dei profumi poi mi si è reso conto che erano dei mezzi cloni delle fortissime ispirazioni poi magari fatte anche meglio però il fatto stesso che io non lo sapevo che non riconoscevo a cos'era scopiazzato questa cosa poi mi faceva sentire ignorante e mi dava fastidio e quindi io a un certo punto della mia collezione ho voluto andare a vedere più il passato che l'ultimissima novità niente stasera sono troppo d'accordo con te la cosa non mi piace credo che tra l'altro questo sia un merito da dare ad un brand commerciale se vogliamo come Tom Ford che è quello di aver lanciato grandi profumi davvero grandi bel profumo ovviamente non metterò mai più neanche Natale andiamo avanti allora io ti porto un profumo posso chiederti perché eri così innamorato a Natale di quel profumo sono tuttora molto innamorato di quel profumo ma siccome ha accompagnato praticamente gli ultimi dieci anni dei miei Natali non lo voglio più ti sei rotto i coglioni via dai vuoi sì voglio cambiare profumo basta ecco allora io ti porto un profumo forse ne ho parlato anche ultimamente non mi ricordo in quale contesto che è Nefs allora lui è un profumo anche lui devo dire la verità sentendolo non è che ti fa dire wow wow roba mai sentita però è un profumo molto ben costruito è un profumo di una bella complessità e allora le note principali che io sento sono queste note licuorose appunto queste note leggermente ambrate che gli danno una bella dolcezza in più c'è anche il miele che gli dà più rotondità viene riportato in piramide la nota del fico anche se non credo e non penso sia un profumo al fico non mi va di dire che questo è un profumo fruttato però c'è c'è tanto ecco c'è tanto in questo profumo dalle note ambrate dalle note legnose alle note fiorite è un profumo che performa a bestia è un profumo che costa a bestia e a me faceva piacere averlo in collezione in primis e poi mi piace veramente tanto è uno di quei profumi che utilizzo poco perché lo ritengo più un profumo da occasione però secondo me è un gran bel profumo e piace piace tanto a chi mi sta intorno quando lo indosso quindi quando lo metto lo metto volentieri bello allora l'ultimo di Tom Ford che è anche l'ultimo acquisto che ho fatto dai 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 si legge? si si wood mineral che prima era nella collezione privata di Tom Ford da qualche mese è uscita questa versione io non ho avuto purtroppo la possibilità di provare la versione della linea privé però ho provato questo e mi è piaciuto è un marino parliamo di un marino marino con un po' di wood però ti devo dire Simone che quando l'ho provato dì perché ha quel sentore un po' algoso un po' qualche nota marina il sale questo wood sul fondo no? ora non vorrei essere pesante però questo è un profumo marino fatto bene fatto bene ben bilanciato non non punta a niente di troppo salato troppo algoso troppo ambra grigia sintetica o ambra grigia naturale tutte cose molto spinte perché se guardi negli ultimi anni sono usciti un po' di marini che erano tutti molto spinti queste note dovevano essere cazzute sembrava quasi che davi un morsa a uno scoglio qui è un profumo marino è un profumo marino non è un odore un sentore un ricordo marino questo è un profumo marino logicamente non è un profumo che quando lo senti ti fa venire in mente quando da bambino andavi a fare i muscoli sugli scogli con gli amici no? no è un profumo buono fatto bene ben bilanciato altamente indossabile bello 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 sì sono sono d'accordo io lo avevo provato tanti anni fa non l'ho mai avuto in collezione non l'ho mai acquistato però lo avevo provato tanti anni fa quando faceva ancora parte appunto della private blend e ti dico la verità forse l'ho provato troppi anni fa non ero pronto per quel genere di profumo perché me lo ricordo me lo ricordo molto minerale ma effettivamente sì era un profumo ben bilanciato che non voleva gridare a niente in particolare e cazzo mi sto accorgendo che comunque sta ribrandizzando un sacco di profumi Townford non so se ha bisogno dei piccioli però sì bello 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 ultimo profumo del brand turco Ambra Calabria allora lui che te lo dico a fa buonissimo buonissimo freschissimo ovviamente come fa a intendere poi anche il nome Ambra Calabria è questa combo appunto di note ambrate barra vanigliate che si sentono si sentono tanto ma c'è secondo me il perfetto equilibrio tra le note ambrate e le note agrumate è bilanciato secondo me alla perfezione cioè se mi dovessero descrivere un profumo ambrato agrumato non riuscirei mai 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 con la mente ad arrivare a un profumo del genere dolcezza equilibratissima l'agrume c'è è frizzante è verde ma non è esagerato e non è spinto è bellissimo è una figata è una figata cioè poter utilizzare un bellambrato del genere anche in estate e anche di giorno perché poi questo è un bellambrato per il giorno è qualcosa di incredibile secondo me qui loro hanno fatto veramente un grandissimo lavoro non è forse il mio preferito del brand però riconosco che hanno fatto davvero un gran bel lavoro buono buono molto buono è uno dei miei preferiti allora io passo al mio secondo brand che è ex Nilo un brand che tranne uno che ho comprato anni fa poi avevo un po' snobbato poi grazie a Simone li ho approfonditi e gli acquisti si sono subito moltiplicati parto con Midnight Special non si leggerà mai si un po' si vedrai comunque Midnight Special questo è un profumo che mi avevi parlato tu Simone e buonissimo buono buono perché è un profumo allora le vibes possono essere un po' vicino a Grand Soir anche se poi qui in realtà abbiamo un po' di wood un po' di rosa un po' di zafferano però io lo trovo molto ambrato anche se poi nelle nelle note non c'è però molto speziato speziato caldo grazie al pepe forse la cannella che lo rende un po' ma veramente veramente buono dei leggerissimi sentori agrumati profumo elegantissimo profumo sono molto molto appassinante lo vedo bene la sera con una bella serata performance buone non ottime buone però un profumo se uno legge la piramide legge rosa wood zafferano ma in realtà la rosa è proprio di accompagnamento non è il classico rosa e wood e zafferano ecco gran bel profumo grazie a Simone che me l'hai fatto conoscere sono d'accordo sono d'accordo costa anche poco quel profumo i prezzi no non si dicono abbiamo detto che non è una puntata in cui parliamo di prezzi parte che non costa tanto va bene allora vado avanti io con il mio secondo brand che è Amouage Amouage è stato uno dei primi brand che avevo scoperto quando mi sono approcciato alla nicchia insieme a Creed insieme anche a Nishane perché poi all'epoca c'era Zor in zona Brera e lì vicino c'era anche il negozio di Amouage quindi quando facevo i miei giri olfattivi giravo un po' e quindi mi sono approcciato anche a questo brand Omanita e mi affascina sempre tantissimo io ti posso dire che ad oggi nel brand Amouage non ho trovato un profumo che mi facesse dire fa schifo fa schifo non si dice fatto male ecco ci sono quelli che più si avvicinano alle mie corde quelli che si avvicinano meno però devo dire che anche loro fanno degli ottimi lavori il primo profumo di cui volevo parlare questa sera è Imitation Man infatti l'ho usato anche un bel po' lui mi piace veramente tantissimo tra l'altro lo trovo perfetto per per la stagione estiva pardon primaverile anche estiva perché è un profumo molto fresco tecnicamente è un profumo cuoiato tecnicamente è un profumo cuoiato anche se ti dirò mi dà fastidio descriverlo come profumo cuoiato perché potrebbe spaventare ad esempio te il cuoio non piace se ti dovessi dire un profumo cuoiato magari sì per curiosità lo sentiresti però forse terresti lontano da questo genere in realtà non lo è cioè per me è un profumo che viene caratterizzato principalmente dai fiori c'è la rosa c'è la violetta e l'iris che gli danno questa questa sfaccettatura molto polverosa molto pudrè profumo freschissimo leggermente speziato e poi appunto nelle note di fondo abbiamo il vetiver il cuoio le note di fondo secondo me vogliono dare forza a quella che è la vera anima del profumo quindi non è né cuoiato né troppo terroso con il vetiver e il pacioli profumo equilibratissimo fatto veramente molto molto bene estremamente unisex c'è anche la versione femminile ma secondo me limitation man è perfetto per tutti e buono buono bello no lo conosco bello bel profumo mio secondo perché lì zio perché no vedevo che c'è un ghigno un po' c'è qualcosa che mi sta confondendo ok il mio secondo ex Nilo e dimmi se si vede perché sarà un casino eh qua mi sa che non si vede un cazzo sì ora si ora si Rose Ubris ah profumo ah qui devo subito fare una premessa attenzione perché per molti potrebbe essere molto femminile parliamo di di un profumo che principalmente sa di lici e rosa un lici quasi alcolico e questa rosa bellissima con sul fondo del paciuli molto delicato profumo che io adoro una bella rosa una bella rosa con questo lici paciuli bello fresco luminoso bello 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 però attenzione per molti potrebbe essere molto femminile io lo indosso spesso questo quantitativo vi posso assicurare che in una boccetta per me vuol dire averlo usato tanto allora si vede che stasera mi copi e ovviamente io non potevo non portare una delle delle mie rose preferite in assoluto l'ho sempre detto e lo dirò sempre che è Lyric Man fantastico anche lui lo so che per te non è così zio non è così neanche per me però per diciamo nasi inesperti o comunque per chi magari non si è ancora approcciato alla rosa insomma potrebbe sembrare un profumo femminile io ancora oggi quando lo indosso spesso purtroppo mi viene chiesto se indosso un profumo da donna per me invece lui nonostante lo ritenga comunque un profumo unisex nel senso che anche le donne possono indossarlo assolutamente perché non è un profumo maschio io trovo che qui la rosa sia stata lavorata alla perfezione alla perfezione profumo molto fresco qua l'agrume spinge tanto in apertura e per me le cose che più percepisco sono agrumi e rosa dove l'incenso non si sente non è un profumo incensato ma forse va a dare il giusto equilibrio ad un fiore che qui in occidente è purtroppo ancora troppo associato al mondo femminile bellissimo io fuga d'oro però se per te quello per alcuni può essere femminile rose hubris c'è da lasciarlo stare perché io lo trovo molto unisex il profumo che tu stai parlando assolutamente anzi a volte l'ho consigliato come rosa maschile perché questo cioè per me che ho provato tante rose lui è uno dei pochi per me molto maschili però hai ragione sono d'accordo c'è da dire che purtroppo purtroppo è così ancora oggi molti uomini associano proprio la rosa a prescindere all'universo femminile quindi qualsiasi profumo che abbia una rosa predominante per loro è un profumo da donna io ti posso dire comunque la rosa anche su un uomo è molto apprezzata proprio dalle donne cavolo te lo posso confermare perché poi ragazzi quando un odore è buono è buono punto ok passo un altro ex nilo che è fleur narcotic e qui parliamo vediamo se metto a fuoco se ce l'ha fatta almeno la gente vede come è scritto eccolo cosa posso dirvi io adoro sto profumo peogna osmanto lici bergamotto un floreale floreale freschissimo perfetto per l'estate molto elegante affascinante di sera di giorno non lo indosserei nemmeno in estate perché è un profumo ricercato è un profumo molto strutturato quindi è un profumo secondo me quasi da occasione anche qui io non so come viene catalogato se è una fragranza unisex sì vedo che è classificato come un muschiato unisex per me altamente unisex poi vi posso dire che io lo sento star bene moltissimo su di me ma anche su mia moglie forse a lei un po' meglio di me essendo un profumo affascinante va provato perché comunque parliamo di un di un floreale molto fresco leggermente talcato con qualche sentore anche tropicale perché questo smanto glielo dà qualche sentore un po' tropicalino però per me è un capolavoro con delle belle performance bellissimo profumo veramente bello allora terzo profumo in casa amouage beach hut allora lui mi fa mi fa impazzire allora in beach hut ho trovato una sorta di evoluzione se vogliamo dire del brand perché perché comunque nella maggior parte dei loro profumi si sente la firma e un orientamento della loro scuola di pensiero in beach hut ho trovato un profumo che voleva strizzare molto di più l'occhio all'occidente beach hut è un profumo che a me personalmente piace sentire più su un uomo che su una donna è un profumo molto verde molto aromatico e legnoso principalmente in apertura c'è questa nota di menta che si sente tantissimo il vetiver che non può mai mancare ovviamente però a contrastare il tutto ci sono queste note un po' resinose so che c'è il pacio di la mirra nonostante sia molto fresco secondo me lo si può indossare tutto l'anno anche se forse in estate dal meglio di sé molto molto buono però mi sono accorto che cioè io la prima volta che l'ho sentito ho pensato cazzo questo profumo piace a tutti in realtà non è così nella sua facilità di utilizzo mettiamolo giù così non è così apprezzato da tutti non è un profumo che piace alla massa quindi provatelo però a me fa veramente impazzire buono 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 Gold Immortals si legge? sì sì si legge parliamo di un ambratone un ambratone che però parte con della pera una bellissima pera bella dolcina con la peogna questo per i primi 40 minuti barra un'oretta è così pera e peogna poi dopo viene fuori questa ambra con la fava tonca con un po' di vaniglia però non diventa mai quei profumi vanigliati con la fava tonca sai quelli come posso dire un po' volgari un po' soffocanti ben bilanciato con questa bellissima peogna questa nota di di pera matura che questo cioè ora stasera bellissimo spettacolare sì sono profumi che costano tra l'altro questi perché sono la linea Estre de Parfum e quindi costicchiano e li ho presi perché mi piacciono veramente tanto un profumo nonostante sia fava tonca e vaniglia secondo me utilizzabile un po' tutto l'anno magari non nelle giornate super mega caldissime un profumo serale perché anche in questo caso parliamo di un profumo molto affascinante lussuoso quindi non ce lo vedo per andare a fare la spesa o per andare per andare in ufficio però anche questo un po' un profumo da occasione ma è un po' lo stile di Ex Nilo di fare dei profumi importanti come struttura profumi quindi da non da difficile indosso perché non sono profumi evocativi cosa del genere però sono anche profumi che si fa presto a metterli fuori contesto proprio perché sono profumi raffinati ed eleganti che in questo caso molto bello buone performance anche questo ottimo uno se non il mio preferito del brand l'ho sempre detto Epic Man lui è un profumo decisamente complesso è un profumo che spesso ho detto far quasi fatica a descrivere perché almeno a mio naso difficilmente emerge qualcosa più di qualcos'altro quello quello che posso dire che io sento maggiormente sono queste note cuoiate è un profumo verde ma non aspettatevi un verde stile spezzetto fresco verde aromatico un po' come lo era Bichat questo è un verde molto carico molto denso appunto è un cuoiate almeno a mio naso esce molto la nota del cuoio resa secondo me decisamente fumosa dalle note che ha all'interno probabilmente anche l'incenso e un profumo molto maschio in questo caso abbiamo un profumo molto maschio non ho mai avuto il piacere di sentirlo ad una donna mi piacerebbe sentirlo perché sarebbe una donna veramente di carattere però lo trovo veramente fantastico questo profumo di carattere o di classe allora su questo genere di profumo ti direi più di carattere che di classe nonostante sia un profumo molto elegante nel mio immaginario è più un profumo da utilizzare di giorno più che di sera quindi lo trovo più di carattere ecco che elegante però mi piacerebbe sentirlo non hai mai avuto l'occasione via no il mio penultimo ex Nilo è outcast blue guarda me l'ha messo a fuoco anche al volo subito allora questo si differenzia da tutti gli altri perché qui parliamo di un cazzottone nello stomaco perché parte subito in questo tabacco oud pepe nero una leggera nota di zafferano che solo col tempo si va a equilibrare perché in realtà in apertura lo sento molto sbilanciato poi dopo invece piano piano viene fuori il mughetto il vetiver il sandalo e quindi diventa molto più rotondo molto più bilanciato in apertura è bello strong c'è questa questo pepe tabacco oud che che si fa sentire il pepe spinge parecchio in apertura poi dopo si bilancia diventa un bellissimo profumo molto maschile in questo caso per i miei gusti forse anche un po' troppo in apertura però poi molto bello però nei periodi freddi già ora che ci sono 16-17 gradi qui da me io ho un profumo che non utilizzerei più a gusto personale e ricordatevi che di tutti gli ex Nilo lui è quello un po' più estroverso che è un po' più strano mettiamola così allora visto che continui a copiarmi ma io non so nemmeno che profumi porti mamma mia stavo scherzando seguo il filone del profumo prettamente invernale portandoti l'interlude 53 apro una parentesi io continuo a preferirgli il classico non ce l'ho ho il 53 quindi ti porto il 53 che trovo comunque molto fedele all'originale anche se qui abbiamo una versione super saiyan cioè quasi esasperata del classico dopo è sì 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 molto più sfacciato nonostante già il classico sia un profumo alquanto sfacciato dicevo che per me è un profumo prettamente invernale poi sì possiamo dirci tutto quello che vogliamo possiamo utilizzarlo anche le serie d'estate va bene però nel mio immaginario questo è proprio un profumo da vaporizzarsi sullo sciarpone sul cappottone di cashmere è carichissimo da subito non ha un'apertura fresca che poi va a scaldare cioè questo è proprio uno schiaffo a mano aperta abbiamo una vagonata di note ambrate resinose e il cuoio va ad amplificare questo suo lato sfacciato ed è un ambrato cuoiato molto fumoso quindi questa nota di incenso fumoso si sente e poi l'oud va a rincarare ancora di più la dose ripeto io continuo a preferirgli la la versione classica ma semplicemente perché secondo me non c'era la necessità o meglio non per il mercato quanto per gli appassionati forse di fare questo però lo trovo un grandissimo bel profumo anche se io come te zio la prima volta che l'ho indossato ho fatto la cazzata di farmici il bagno sono stato male sono stato male non fatelo cioè se lo volete provare se lo volete acquistare al buio fate quello che volete non fate la cazzata di farmici il bagno perché questo è un profumo che veramente dovete mettere due gocce dietro l'orecchio basta se no state male io st'inverno un paio di volte l'ho utilizzato proprio addirittura nemmeno sul collo uno spruzzo sul dorso della mano destra uno sulla mano sinistra e basta e avanza e io preferisco mettermelo sulle mani per far sì che sia un po' più distante dal naso perché dopo 6-7 ore picchia sulle mani le muovi ogni tanto lo senti ogni tanto non lo senti c'ha la sua bella scia performance mostruose io vado controcorrente preferisco lui che al classico il classico lo stavo per comprare un'annetta e mezzo fa l'ho provato in profumeria ma mi ha dato la sensazione avendo il 53 di qualcosa di un po' più scarico di qualcosa un po' più anacquato so che l'originale è è quello però avendo preso prima il 53 da orso voloso mi ha traviato e oggi il classico lo trovo un po' capito anche se poi non lo è anche se poi in realtà non lo è ultimo di ex Nilo e parliamo di un profumo che devo un attimino spiegarlo perché già due ragazzi mi hanno contattato dicendo ma non è vero allora si parla di Amber Sky che è una serie limitata con l'aggiunta di Rosa di Maggio allora ex Nilo fa questo Amber Sky poi si è inventata una serie limitata quindi Amber Sky con l'aggiunta di Rosa di Maggio infatti si chiama Amber Sky Rose de Mai questa versione si riconosce dal tappo che sopra è rosa proprio per ricordare la rosa perché un paio di ragazzi mi hanno scritto ma ho provato Amber Sky ma la rosa non si sente no Amber Sky il classico è un'altra cosa quindi non so se si trova ancora costa parecchio so che era una serie limitata e questo lo porto anche un po' per ultimo perché forse è quello che mi piace di più in assoluto di tutti gli ex Nilo perché Amber Sky già era un bellissimo profumo qui ci hanno messo questa aggiunta di rosa di maggio naturale che gli dà lo fa volare lo fa volare perché gli dà quel tocco in più alla fine qui giriamo intorno a del legno di cedro sandalo tanta ambra che era il classico con questa iniezione di rosa bellissima rosa di maggio la mia rosa preferita per me è un profumo strepitoso molto unisex in questo caso perché comunque tutte le note al di là della rosa tutto il resto si parla sostanzialmente di un ambratone un ambrato flore reale grazie a questa rosa leggermente tascato però l'ambra il legno di cedro si fanno sentire parecchio in questo profumo bellissimo con questo concluso già che profumo anni che hai portato allora ultimo profumo anche qui abbiamo la versione super saiyan anche se è molto meno dopata rispetto all'interlude che è il reflection 45 allora ti dico forse anche qui gli preferisco la versione classica che in realtà ho non l'ho trovata non so dove l'ho l'ho infilata perché ho sempre avuto solo il travel non ho mai acquistato la boccia originale però ti dico lui che è anche meno dopato mi piace molto e reflection è stato uno dei primi profumi che ho approcciato in amouage perché era forse il più aipato tra le varie community stati uniti inghilterra eccetera eccetera quindi non ti nascondo che la voglia di sentirla era altissimo e mi ricordo che quando l'ho sentito la prima volta dissi wow cioè che cos'è non riuscivo a capirlo mi aspettavo tutt'altro ti dico la verità forse perché nonostante la complessità del profumo lo trovai una fragranza relativamente semplice eppure c'era qualcosa che mi attirava lui che viene sempre descritto come un profumo super versatile che lo è un profumo elegantissimo che lo è tantissimi lo consigliano sempre come il classico profumo da matrimonio dedicato allo sposo ed effettivamente sì perché ha questo animo quasi candido se vogliamo no è una fragranza talcata quindi con queste note pudrè grazie all'iris e in questo caso rispetto al classico noto un fondo molto più resinoso ecco il classico forse è un po' più innocente qui invece abbiamo delle note di fondo un po' più cazzute ma nonostante questo comunque non perde l'anima e lo spirito profumo che secondo me va comunque provato per chi si approccia alla nicchia in primis perché è un profumo facile se vogliamo e poi è un profumo che comunque ha segnato un po' la profumeria artistica e quindi secondo me va almeno provato poi può piacere può non piacere perché sono cavoli vostri però io lo trovo un grandissimo profumo come dicevo prima non performa tantissimo anche lui non è uno di quei profumi che grida per fortuna però non ha una grandissima persistenza su pelle non ha una grandissima proiezione però ti dà una bella sensazione quasi di pulito ti fa stare bene è un gran bel profumo ma quella tipologia di profumi lì non devono urlare non possono urlare non devono e non possono urlare anch'io le ho entrambi ti dico mi sono pentito di aver preso la versione pompata perché alla fine io non ho notato differenze di prestazioni se non una differenza come dicevi te delle note di fondo quindi però rimane un bel profumo che non dura molto ma poco che dura da soddisfazione l'unica cosa che non ho mai trovato d'accordo è questa cosa profumo da matrimonio io mi sono sposato nel 2019 quindi non è tantissimi anni nonostante ho quasi 51 anni mi sono sposato in tarda età quel giorno lì è un giorno che lo sposo la sposa sono molto sotto stress quindi poi generalmente non è che ci si sposa il 2 gennaio tende ad andare a sposarsi nei periodi più caldi un profumo del genere quando tu sei teso che sudi in una giornata calda ti dura un quarto d'ora veramente e quindi hai pensato di mettere una bella bomba no io ho fatto una cazzata ancora peggio non lo dico perché semmai dopo mi attacchi con quella filippica lì però per esperienza non è semplice trovare un profumo da matrimonio perché secondo me un profumo da matrimonio deve comunque durare ma non deve essere non deve urlare non deve essere invadente non è che ti puoi mettere black orchid ok a meno che non fai il matrimonio come verdone e quell'altro famolo strano allora va bene black orchid però io sono in difficoltà quando profumo da matrimonio perché secondo me ha bisogno che duri però non deve urlare e lì diventa un po' un casotto e vabbè al massimo nel taschino invece della poscetta ti metti un travel ogni tanto te lo ributi addosso vai te lo devo dire io eh tiri fuori ta 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 eh sì vabbè oh sì abbiamo fatto quasi un'ora e minchia quanto parli abbiamo detto portiamone solo 6 per brand se mai viene troppo lungo però sono 24 profumi eh sì 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 stasera abbiamo tirato fuori belle bombette va bene va bene direi che ci siamo prolungati troppo ciao buonanotte a tutti Daniele riprenditi grazie a tutti